Firmato il protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato istituzionale, finalizzato alla definizione delle linee di programmazione per gli interventi, oltre al finanziamento da 25 milioni di euro assegnato dal MIBAC per le aree archeologiche e la viabilità nell'area Flegre e Odomizia. Il protocollo è stato sottoscritto dai sindaci di Giuliano, Pozzuli e Bacoli con il sottosegretario e beni culturali Antimo Cesaro e la sovrintendente ai beni archeologici della campagna Adele Campanelli. Parte dei fondi saranno utilizzati per la valorizzazione e il rilancio degli scavi archeologici dell'Iternum, da anni abbandonati e dove tutti sperano possono giungere turisti da ogni parte del mondo. Proprio negli scavi dell'Iternum assiede la tomba di Scipione dell'Africano, fesso dimenticata da chi di dovere e che ora a breve potrebbe ritornare al vecchio splendore. Grazie a tutti.